Quanti soldi ho speso per tre giorni in Messico? L'aereo di andata l'ho preso da Toronto a Cancun e ho pagato 204 euro mentre l'aereo di ritorno sono tornato a Roma e ha costato molto di più, 500 euro La vita lì non costa tantissimo, infatti l'hotel per due notti a bordo piscina con l'oceano davanti l'ho pagato 176 euro Per i trasporti io e Montesi ci siamo mossi tantissimo perché preferivamo andare con una macchina piuttosto che da soli in Messico a piedi di notte che non conoscevamo il posto E abbiamo speso 130 euro Infine l'ultima spesa è stato il cibo Abbiamo mangiato tantissimo, io mi sono sfondato di avocado, guacamole Ho mangiato veramente a dismisura E abbiamo speso 170 euro Quindi per finire tre giorni in Messico ho pagato 1180 euro Un prezzo ragionevole per stare dall'altra parte del mondo